All'indomani della revoca dell'assessore Gianfranco Pappalardo Fiumara da parte del sindaco di Riposto Enzo Caragliano arriva puntuale il commento dell'ex assessore alla cultura e alla pubblica istruzione che si dice sereno e forte del lavoro svolto in questi anni per Riposto e che la questione della discordia sulla lapide di Palazzo Vigo ha più l'aria di essere un facile pretesto per farlo fuori. Ma è una revoca che io mi aspettavo perché il sindaco improvvisamente il 9 gennaio con la scusa della lapide l'episodio della lapide che mi creda è superfluo. Io ho semplicemente risposto a un'interrogazione legittima del consigliere Bergancini tranne che il sindaco non ama appunto il dialogo e la democrazia come l'altra parte ha dimostrato in più occasioni e io in quell'occasione ecco il sindaco ha iniziato a farmi una serie di... diciamo già la freddezza era nata già in tempi lontani poi si era concretizzata dopo non so per quale caso dopo il 5 dicembre perché io insomma dopo l'episodio dell'intimidazione che abbiamo ricevuto sia io che il sindaco io ho avuto da parte di alcuni esponenti ho avuto delle richieste insomma di dimissioni e dopodiché il sindaco ha accolto la palla al balzo il 9 gennaio in occasione della mia risposta legittima al consigliere Bergancini per una cosa sulla quale io non ero stato coinvolto inutile che lui dica che io ero stato coinvolto non sono nemmeno stato invitato il 31 di dicembre non sono nemmeno stato invitato allo svelo della lapide a Palazzo Vigo dopo questa situazione sono stato zitto anche qua in questa occasione fino al 9 gennaio fino a quando il consigliere Bergancini non mi ha fatto appunto la dovuta interrogazione che poteva portare solo a me essendo io l'assessore di riferimento ai beni culturali e io ho risposto come dovutamente si doveva rispondere ho sempre d'altra parte rispettato la collegialità in tantissime occasioni fra le quali anche con le mie dimissioni del mio seggio che non ha vingoli di mandato quale consigliere due anni fa che gliel'ho posto nelle mani appunto del sindaco mi chiedo se avesse mai potuto fare il sindaco garaiano se fossi stato consigliere comunale o una cosa del genere ecco, ha iniziato a chiedermi con imbarazzo eccetera eccetera le dimissioni da assessore io ad oggi da quando ho pubblicato il mio normalissimo comunicato a stampa sono molto sereno ho ricevuto quasi mille messaggi di attestazione di solidarietà ebbene io ho detto chiaramente al sindaco che non intendevo dimettermi perché non c'erano le motivazioni e per toglierlo da ogni alibi ho detto revocami la delega lui ha aspettato, aspettato, aspettato fino a quando poi ieri mi ha revocato la delega poi lui arzigogolava perché diceva tu nel frattempo prendi il... poi ti candidi, ti candidi, prendi il voto delle sinistre lui non ha compreso caragliano che se io mi dovessi candidare prendo il voto nonno delle sinistre prendo il voto suo perché io prima di tutto sarò il suo nonno avversario il suo nemico perché guardi con grande chiarezza il vero problema di questi quattro anni e mezzo io sono stato un militare al fianco di caragliano io ho fatto la campagna elettorale sono stato colui che gli ha dato una immagine culturale ma non perché me lo dico io ma perché sotto gli occhi di tutti il vero problema di questi quattro anni e mezzo si chiama nonno maggioranza, non gruppo, nonno quello, non quell'altro si chiama Enzo Caragliano proprio per questo suo carattere lui ha un carattere che è abituato a dividere piuttosto che unire come possiamo spiegare il silenzio del sindaco fino ad ora e poi quest'atto un po' improvviso qual è il reale motivo? ma l'ho detto il reale motivo è questo Pappalardo è stato spremuto fino a Natale ha fatto tutto quello che doveva fare mi ha reso immagine fino alla fine non mi serve più lei pensa che con una persona del genere si può fare un percorso politico chiusura totale che non si permetta di chiamarmi più non si permetta di chiamare il silenzio del sindaco non si permetta di chiamare il silenzio del sindaco